Un incendio si è sviluppato intorno alle 14 di domenica da una cantinola di un condominio in via Monte Cavallo al quartiere Migliarina a Via Reggio, di fronte al commissariato di polizia. Sono state evacuate per precauzione 20 persone dal palazzo, 7 sono state trasferite in codice verde, 2 in codice giallo per aver respirato del fumo. Tutto per precauzione sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto sono intervenute ambulanze della Croce Verde di Via Reggio e Lido di Camaiore, vigili del fuoco con due squadre, una da Via Reggio e una da Piedrasanta, polizia municipale oltre il personale del commissariato anche con la scientifica. Sulle cause dell'incendio sono seguite diverse piste, tra cui quella del dolo. Alcuni dei condomini hanno denunciato alcune situazioni al limite della regolarità tra chi vive nel palazzo dell'Erp, diviso in tre blocchi che ospita complessivamente 88 famiglie.